Il sogno di vedere le famiglie in bicicletta, i bambini che giocano, canoe e aquiloni colorati che svolazzano nel cielo. Tutto questo è successo nel Verde Parco delle Cave, un sogno che si è realizzato dopo 40 anni e che ieri è stato inaugurato ufficialmente con la presenza delle autorità. Una grande festa durata tutta la giornata con musica, associazioni, sport e punti ristoro, che hanno accolto i tantissimi cittadini bresciani che hanno visitato il piccolo angolo di Paradiso a due passi dalla città. Sì, penso di sì, penso che già oggi molti hanno visto la realizzazione dei propri sogni, le proprie battaglie, dei propri impegni, sono le associazioni del territorio, tante donne, tanti uomini che hanno voluto questa cosa, questa realizzazione. Però sognare non basta, bisogna realizzare e oggi consegniamo una realizzazione e fra qualche settimana consegneremo la seconda realizzazione che è il secondo lago e in autunno il terzo lago, perché sono già quattro i laghi di proprietà comunali strappati dalla proprietà privata, dall'escavazione e dalla produzione industriale e diventate grandi aree di mitigazione ambientale. È una cosa bellissima e molto emozionante anche per un sindaco, molto. Io devo dire che mi commuovo abbastanza facilmente, ma è una commozione giustificata dal fatto che credo che siano più di 40 anni che stiamo, che sto su questo tema, abitando qui nella zona, che ho sempre sentito fin dai primi giorni come un problema grosso da risolvere e che finalmente oggi vede trasformarsi quello che era un sogno in una realtà, una meravigliosa area di mitigazione ambientale che da domani incomincerà a diventare sempre più grande perché oggi già di proprietà del comune sono quattro laghi ma diventeranno sei, questo è il primo finito e attrezzato, fra 15 giorni consegneremo il secondo. E quindi la commozione mi sembrava giustificata dal fatto di voler ricordare anche tutti quegli amici alcuni dei quali purtroppo non ci sono più, che nel lontano consiglio di quartiere di Bufalora e nel consiglio di circoscrizione la nona porta crema una volta, incominciamo quel percorso e quella battaglia che ci ha portato fino a qui. Ecco, la commozione è giustificata, devo dire che sono diventato nonno ricorrendo un sogno e questo è un sogno che adesso voglio regalare a tutti i bambini della zona, in particolare a mia nipote.